carissimi bentornati o benvenuti se siete qui per la prima volta mi prendo questo breve momento così per aggiornarvi sapete che ogni tanto a me piace tenervi così informati su quello che mi succede su quello che sta accadendo sono periodi davvero molto stressanti molto intensi infatti appena riuscirò poi a stabilizzarmi bene partirò con molti più video ecco durante la settimana riprenderemo in maniera più intensa e più approfondita più sistematica ecco le lezioni sul canale però dovete pazientare ancora un pochino perché giusto ieri ho finalmente concluso un periodo davvero pesantissimo un incubo davvero un percorso che sembrava non finire più è stato un anno di studi matti e disperatissimi come direbbe leopardi già da dicembre del 2022 ho iniziato a fare tutta una serie di test di crocette e su quesiti anche davvero inutili sulle cose più disparate che poi ho affrontato in totale ben cinque prove di cui tre scritti e due orali addirittura ben due concorsi ordinari uno per le medie uno per le superiori e poi un concorso straordinario a 22 sempre per le medie che ho vinto quindi finora al momento al mio attivo un concorso straordinario vinto per le medie un concorso ordinario per le superiori e superato quindi lì ho preso l'abilitazione e poi ho preso anche l'abilitazione per la scuola secondaria di primo grado quindi sempre per le medie quindi per un totale di ben tre concorsi è stato un anno davvero difficile ed è anche il motivo per cui avete visto meno video del solito però volevo rassicurarvi perché più avanti riprenderemo con più costanza e soprattutto il filo conduttore che ho scelto quest'anno da portare sul canale significa che nel corso del tempo poi parleremo di alcuni romanzi e che riguardano questo argomento ed è appunto il realismo quindi parleremo non solo del naturalismo francese del verismo italiano quindi in particolare zola e verga capuana e federico de roberto ma parleremo anche del realismo degli anni 30 dell'ottocento quindi partiremo proprio da lì ci concentreremo un po anche su balzac e su standale per poi passare a gustave flaubert con madame bovary e di cui trovate già un video qui sul canale molto lungo di approfondimento su questo romanzo e poi parleremo ancora di germinile asserte dei fratelli edmond e jules de concours e su questo argomento trovate sempre un altro video qui sul canale sulla prefazione perché sarà importante e poi arriveremo al romanzo sperimentale di zola e appunto naturalismo e verismo italiano concludendo poi sul finire dell'ottocento anche con altri autori volevo rassicurare anche coloro che già mi seguono da tempo perché i video appunto sulle epistule morale sad lucilium quindi di seneca i video sulle sui sonetti di petrarca continueranno ad esserci quindi è semplicemente un filo conduttore significa che il tema più importante dell'anno sarà questo anche per dare anche un senso e soprattutto una sorta di continuità le nostre lezioni ecco diciamo che ogni anno io sceglierò una tematica che poi vi proporrò e su cui ci concentreremo in particolare significa che poi leggeremo analizzeremo anche alcune novelle di giovanni verga come rosso malpelo e in particolare vedremo tutta la raccolta di vita dei campi quindi faremo anche altre altre novelle e soprattutto parleremo di alcuni grandi romanzi come il marchese di roccaverdina di luigi capuana in particolar modo poi anche dei malavoglia e del mastro don gesualdo di giovanni verga e anche soprattutto i vicerei l'illusione e l'imperio di federico de roberto naturalmente se non riusciamo a finire durante l'anno andremo avanti anche l'anno prossimo perché come vi stavo dicendo prima avendo vinto poi questi concorsi dovrò fare anche l'anno di prova probabilmente ci sarà un trasferimento anche di sede e soprattutto anche un corso universitario infatti volevo cogliere così anche l'occasione per fare una piccola riflessione su questi concorsi sono stati davvero massacranti è un incubo per certi aspetti e soprattutto secondo me non vanno davvero a valutare il merito di una persona non o almeno non nella totalità nella sua interezza insomma perché quello che manca di base è anche un test attitudinale perché non necessariamente chi lo supera è realmente portato per l'insegnamento e qui lo dico proprio perché di questo sono convinto ma non per darmi la zappa sui piedi da solo proprio perché ho visto tante realtà tante situazioni ci sono docenti preparatissimi che hanno meritato di aver superato questo concorso altri invece che magari non sarebbero adatti dal punto di vista umano del rapporto che si instaura anche con gli alunni soprattutto per quanto riguarda l'empatia e la sensibilità perché di fatto non bisogna soltanto sapere tutto bisogna poi comunicare in maniera adeguata bisogna sapersi soprattutto rapportare con gli alunni con i ragazzi non è assolutamente semplice è vero anche che in parte questo non ce lo insegna nessuno però effettivamente ci sono entrambe le casistiche c'è chi meritava di passare e non è passato e dall'altra parte c'è chi invece è passato e magari non lo meritava proprio per questo motivo perché magari preparatissimo sulla teoria ma poi sul campo non si rivela così efficace come dovrebbe essere questo ovviamente solo una riflessione non vuole essere un attacco ad persona o un attacco contro qualcuno in particolare mi baso sull'esperienza che ho visto in questi in questo periodo in questi mesi ovviamente è il mio pensiero e quello che penso io lo condivido perché a me fa sempre piacere poi c'è sicuramente chi non sarà d'accordo però ho visto veramente di tutti i colori insomma gente preparata ma soprattutto ben motivata che però anche per sfortuna o semplicemente per emozione e perché magari un commissario è stato particolarmente tosto difficile insomma perché ha contestato perché magari alcune scelte didattiche non lo convincevano magari non è passato insomma ci sono davvero tutte le casistiche ripeto non vuole essere un attacco contro qualcuno in particolare mi raccomando però dall'altro lato secondo me soprattutto sulla parte teorica hanno chiesto cose veramente futili inutili soprattutto ai fini dell'insegnamento perché allo scritto bisognava praticamente essere preparati sulla qualunque potevano chiedere in quale capitolo si trova quel personaggio in quale girone infernale si trova l'anima di x o di y e quindi insomma davvero diventava difficile oppure tiravano fuori una poesia di montale o di pascoli mai sentita nominare quelle ovviamente che a scuola non si fanno mai e pretendevano che l'insegnante sapesse esattamente in quale raccolta o in quale sezione di quella raccolta si trovasse la appunto suddetta poesia davvero insomma un puro nozionismo ecco tantissime date tantissimi nomi ma anche di cose magari mai viste mai sentite o di argomenti che magari nessuno tratterà mai per esempio alle medie è saltato fuori benvenuto cellini ora ditemi voi chi mai abbia trattato questo autore che è stato non solo un artista ma anche appunto uno scrittore perché ha scritto la propria autobiografia alle medie nessuno ecco probabilmente neanche le superiori io personalmente non l'ho mai studiato non solo alle superiori ma neanche all'università ricordo soltanto che fu citato dal mio professore dell'università di letteratura italiana moderna quando trattammo la monografia e quando facciamo appunto il corso monografico su ugo foscolo perché nelle ultime lettere di jacopo ortis ecco che il protagonista lo cita chiesi la vita di benvenuto cellini mi dissero che non l'aveano ecco me lo ricordo perché il mio professore lo lesse lo rilesse più e più volte però poi io personalmente non approfondì mai insomma chi fosse questo benvenuto cellini dico la verità non avrei saputo rispondere quindi se avessi beccato io questa traccia orale mai avrei potuto rispondere avrei fatto tranquillamente scena muta cioè a parte quello che vi sto dicendo non avrei saputo dire altro e quindi da un lato si bisognava essere molto preparati però dall'altro lato secondo me invece bisognava avere anche fortuna non solo fortuna ma anche fortuna e fortuna nel beccare magari una cosa su cui si era più preparati o che magari si conosceva meglio rispetto ad altri temi e argomenti perché provate a pensare anche a storia un conto è beccare la rivoluzione francese oppure non lo so bonifaccio ottavo piuttosto che per esempio la seconda guerra mondiale oppure benito mussolini e così via un conto è beccare gli itti l'impero ittita oppure la guerra di successione polacca oppure le conseguenze economiche della guerra di successione spagnola c'è solo quelle economiche cioè così su due piedi non è assolutamente facile anche all'orale dello straordinario abbiamo avuto cinque minuti per parlare con estrazione della traccia così sul momento senza neanche poterci preparare quindi davvero dei concorsi terribili non è possibile essere preparati su tutto lo scibile umano in cinque minuti da poi anche cinque minuti per esporre come si fa a capire se un insegnante sia davvero preparato ma soprattutto adatto all'insegnamento con cinque minuti di preparazione cioè è una vergogna è veramente una vergogna delle modalità e delle tempistiche davvero di cui bisognerebbe solo vergognarsi e lo dico da vincitore di concorso perché ripeto ho visto di tutto e di più chi meritava e chi non meritava e poi va anche in base la fortuna per carità ripeto senza togliere nulla ai vincitori che l'hanno meritato qui si sta facendo un altro tipo di riflessione cioè mi chiedo se effettivamente questo sia il modo migliore per reclutare dei docenti quindi testa crocette che andrebbero anche bene per la parte di preselezione però su tematiche e su argomenti degni non certo sul numero del capitolo del paragrafo in cui compare fragaldino nei promessi sposi cioè voglio dire veramente cose ecco banali ci mancava solo che fosse chiesto quanti quadri ci sono nel corridoio del palazzotto di don rodrigo veramente cose non stupide di più ecco non è questa di certo non è questa la preparazione che dovrebbe avere un buon insegnante poi sono spariti i temi non si scrive più per esempio in latino non si traduce più e comunque voglio dire ecco soprattutto secondo me anche test psicoattitudinali perché guardate che insegnare non è per tutti perché è un mestiere è un lavoro importantissimo non bisogna più dire soltanto che sia una missione una vocazione certo bisogna avere la fiamma bisogna avere la passione ma come tutti i in quale lavoro non bisogna avere la passione tutti perché provate a pensare a un medico a un chirurgo che non ha passione che opera o che vi visita soltanto per la parcella non mi sembra che sia un medico che vorreste incontrare insomma nella vostra vita però a quella persona noi affidiamo la nostra salute e la nostra stessa vita quindi qui invece stiamo parlando del futuro delle nostre generazioni future dei cittadini del domani quindi è un lavoro importantissimo io lo dico sempre tanto quanto il medico oserei dire forse addirittura di più perché il medico salva la vita la vita fisica noi possiamo salvare invece non solo la parte umana di noi stessi ma soprattutto formiamo le future generazioni i cittadini del domani i nuovi e i nuovi votanti i nuovi politici perché tra di loro ci sarà anche qualcuno che vorrà poi impegnarsi in politica anche un'altra cosa perché di politica non possiamo parlare nelle scuole sì si fa ma bisogna stare molto attenti se qualcuno forse ne parlerà per carità ma anche lì ci sono sempre mille accorgimenti perché si rischia magari di influenzare quando poi sono già influenzati perché a 18 anni cosa volete che vadano a votare con consapevolezza c'è gente che vota a 60 anni e non sa neanche dove sia palazzo chigi e dove sia invece palazzo madama e tantissimi non sanno neanche la differenza tra governo e parlamento quindi davvero c'è di tutto e di più però ecco dei concorsi che secondo me dovrebbero selezionare solo i più meritevoli e dopo invece magari non è così mi chiedo perché ci interroghiamo sul fatto che molti alunni escano senza sapere molte cose cioè bisogna sempre quando si fa una riflessione partire dalla testa io lo dico sempre perché bisogna sempre partire dal vertice poi scendere giù giù fino ovviamente alla parte più bassa della piramide poi bisognerebbe parlare di funzionari di governanti che magari non hanno mai messo piede in una scuola e che continuano a fare delle leggi sulla scuola e magari sono sempre chiusi là nei loro uffici beati tranquilli e quindi anche lì ce ne sarebbero di cose da dire e soprattutto poi persone che dovrebbero essere non solo preparate ma soprattutto empatiche aperte al dialogo pronti ad ascoltare tutti i punti di vista perché guardate che insegnare non è semplice è davvero difficile poi richiede una pazienza enorme non solo con gli alunni ma soprattutto con i genitori che spesso volentieri sono molto più lamentosi io li chiamo i sindacalisti perché spesso arrivano a difenderli a spada tratta anche quando davanti all'evidenza ci sarebbe solo che da rimanere in silenzio insomma non ci sarebbe nient'altro da dire o da aggiungere cioè guardate che io ne avrei da dire su tutti però faccio sempre autocritica partendo sempre dalla mia categoria e anche da me stesso perché poi il bravo insegnante fa un'attività introspettiva quindi un esame di coscienza continuo quotidiano su se stesso cioè se già il sistema di reclutamento dei docenti è sbagliato e soprattutto ha molte falle ecco che poi non ci possiamo stupire se questi alunni escano senza sapere molte cose poi c'è tutto il grande tema delle metodologie davvero queste nuove metodologie servono o c'è il rischio di saper fare ma di non sapere più nulla perché guardate che si sta trasformando la scuola in un'azienda cioè spesso sento dire bisogna fare bisogna produrre leggo molti anche commenti molte e vedo molte foto di colleghi per esempio su instagram ma anche di colleghi che non conosco sparsi per l'italia dove dicono a oggi sono stato produttivo oggi produttività bisogna produrre bisogna essere produttivi ma cos'è che dobbiamo produrre noi cioè noi non siamo una fabbrica io non ho delle non ho dello scatolame non ho delle scatole degli scatoloni oppure delle scarpe non devo fare non devo produrre io devo insegnare devo trasmettere dei contenuti ma soprattutto devo sviluppare nei ragazzi il pensiero critico io devo insegnare i ragazzi a pensare non a che cosa pensare ma come pensare cioè come si fa come bisogna accendere questo cervello come bisogna informarsi dove reperire informazioni come fare per non cadere vittima soltanto della propaganda degli altri del genitore dell'amico del parente del gruppo di appartenenza o cioè guardate che è un mestiere veramente complicato e non è adatto a tutti guardate che possono entrare cani e porci e lo dico perché sento e vedo c'è gente che magari piegava le magliette al supermercato al centro commerciale gente che faceva il cassiere oppure che lavora in banca che fa il farmacista e poi dice ma sai io avrei dei crediti in questa materia forse potrei mettermi anch'io di insegnare cioè ma ci rendiamo conto cioè non ci non ci si può improvvisare insegnanti bisogna fare un percorso un percorso lungo e che sia selettivo anche in entrata non solo in uscita cioè ben vengano però poi smettiamola quando uno finalmente arriva in cattedra ed è stato selezionato e merita di essere lì basta con questa valutazione selezione continua da parte di genitori degli alunni dei dirigenti cioè una volta che si è finito basta cioè ci dovrebbe essere un percorso stabilito a priori però fatto con criterio da persone competenti e quando si arriva alla fine basta anche perché poi penso agli studenti guardate che non è semplice provate anche pensare a dover cambiare insegnante ogni anno non è semplice assolutamente ci sono classi che cambiano più insegnanti nel corso dello stesso anno io per esempio un anno ho visto l'insegnante di matematica cambiare ben quattro volte nella stessa classe nello stesso anno scolastico ci sono tantissime cose da dire il torto e la ragione lo dico sempre non sono mai solo da una parte ma certo è che se poi noi collaborassimo tutti insieme genitori e insegnanti studenti e dirigenti per far crescere questi ragazzi cioè se pensassimo soltanto al loro bene e non alle prove invalsi alla burocrazia si attribuissimo maggiore importanza all'alunno sarebbe tutta un'altra cosa cioè dobbiamo recuperare l'aspetto anche umano del processo di apprendimento perché se no diventa tutta burocrazia hanno trasformato la scuola e che era il luogo più bello del mondo davvero la casa di tutti perché aperta a tutti lo dice anche la costituzione ecco in una fabbrica sta diventando un cartificio e un diplomificio cioè devono passare tutti cani e porci perché poi anche lì sulla valutazione sento dire delle cose veramente assurde abolire il voto abolire le interrogazioni abolire le materie obbligatorie cioè ognuno si sceglie solo quelle che piacciono perché se uno non è portato dicono è inutile continuare a scontrarsi no meglio lasciarle perdere quindi lasciamoli pure ignoranti completamente su quella disciplina che magari poi può anche servire non si sa mai nella vita tutto può servire e quindi davvero sento di quelle castronerie veramente incredibili e poi alla fine che cosa diventa la scuola un posto dove io mi scrivo solo per aver inserito il mio nome e cognome poi posso essere promosso posso avere anche tutti i quattro tutti i tre posso non avere mai aperto il libro va benissimo lo stesso perché ormai qualsiasi cosa si faccia è terrorismo psicologico e quindi bisogna abolire tutto si parla solo di abusi di potere e di terrorismo e io potrei dirvi siccome lavorare è un trauma quotidiano aboliamo il lavoro stiamo tutti a casa ci divertiamo ce la spassiamo andiamo a spasso mangiamo beviamo carpe diem no cogli l'attimo vivi al massimo e che sia finita e senza nessun incentivo che non significa necessariamente il voto numerico 7 8 9 può essere un livello intermedio avanzato ci sono tanti tanti modi per discutere quanto vogliamo sulla modalità però in realtà senza incentivi ricordatevi che l'uomo non fa nulla perché è vero sì bisognerebbe studiare solo per passione e se uno la passione non ce l'ha bisogna farla avvenire e se uno non è portato per lo studio se l'uomo non è mosso da un utile o da un incentivo di qualsiasi tipo non si muove quante volte facciamo cose perché siamo obbligati ma se non fossimo obbligati non le faremmo affatto quindi non sto dicendo che bisogna studiare per il voto quella è l'ultima cosa però togliere completamente un qualsiasi tipo di valutazione è altrettanto sbagliato perché poi significa che faccia o che non faccia tanto passo lo stesso chi se ne frega e lascio perdere non studio più non faccio i compiti e quindi poi per carità è vero anche il contrario cioè copio gli esercizi copio la versione e mi faccio dire qualcosina così all'ultimo minuto dico quello che mi ricordo e magari un 6 riesco a strapparlo lo stesso all'orale quindi per carità però bisognerebbe ecco trovare un nuovo metodo ma soprattutto maggiore serietà sia da parte nostra come scuola e sia da parte loro come studenti e come genitori ricordiamoci che esiste un patto di corresponsabilità che pochi però leggono e le responsabilità poi vengono tutte addossate alla scuola e anche questo è sbagliato la mia preoccupazione più grande è che vedo ogni giorno la nostra scuola trasformata sempre di più in una industria in una fabbrica bisogna essere produttivi bisogna lavorare in team che già questa parola a me fa venire i brividi perché dire gruppo è troppo italianizzato che bisogna parlare solo in inglese se no non siamo al passo con i tempi e soprattutto bisogna appunto come dicevo prima produrre poi una certificazione delle competenze bisogna fare la prova in valsi bisogna fare i lavori di gruppo bisogna fare attività di orientamento orientering anche lì bisogna fare 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 poi non sentirete più la parola pensare questo verbo è scomparso non devo pensare devo fare perché se faccio non penso e se non penso divento un semplice esecutore e in questo modo chiunque dalla fidanzata al genitore al datore di lavoro mi può pilotare mi può comandare mi può influenzare come meglio crede seneca docet poi chi vuol capire capisca il senso del mio messaggio sto dicendo che la priorità è cambiata la scuola non è più il centro del pensiero non siamo più lì per pensare per discutere e soprattutto per ascoltare punti di vista diversi perché ricordatevi che se non vi allineate al pensiero del governo o comunque della classe dominante se voi osate dire una cosa diversa venite richiamati immediatamente dai genitori dai dirigenti da chiunque perché state andando fuori dal seminato come sempre chi vuole scrivere può scrivere tutti sono liberi di partecipare ho aperto questo canale proprio per quello perché la nostra classe fosse il più ampia il più aperta e il più diversificata possibile però ricordatevi che ognuno la pensa in maniera diversa ed è libero di esprimere il proprio parere senza offendere gli altri questo che sia chiaro lo dico subito perché se no io cancello però ricordiamoci un'altra cosa se non posso più dire ciò che penso se non posso esprimerlo io mi farei due domande sul concetto di democrazia come sempre ci vediamo alla prossima chiacchierata la prossima lezione chiamatela come volete io sarò sempre qui ad aspettarvi a presto